La fusione tra LGH e A2A non si doveva fare, lo dice l'ANAC, l'Agenzia Nazionale Anticorruzione guidata dal magistrato Raffaele Cantone, alla quale si erano rivolti gli oppositori alla procedura di acquisizione attraverso un ricorso. Ricorso accolto e che boccia l'operazione in quanto avrebbe dovuto tenersi una gara pubblica aperta anche ad altri soggetti, compresi quelli stranieri. Una doccia fredda soprattutto sull'amministrazione comunale del sindaco Gianluca Galimberti, che ha spinto molto verso l'unione con il colosso dell'energia. E ora che cosa accadrà? I vertici delle due società si dicono tranquilli, forti anche di diversi pareri legali che hanno avvallato l'iter adottato. Tutto almeno per il momento resta fermo, compresi i consigli di amministrazione che mantengono i loro poteri. Ma entro 30 giorni LGH dovrà presentarsi davanti all'ANAC per dare ulteriori spiegazioni. Secondo gli addetti ai lavori il rischio maggiore è quello di una pesante sanzione, ma l'assetto conquistato non dovrebbe subire modifiche. Dunque niente divorzio forzato.